Buonasera a te e buon viaggio, ultimo aggiornamento di oggi con muoversi in Toscana dalla redazione di Flores Multimedia Mauro Ciutini-Code sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo allo svincolo Lastra-Signa in uscita provenendo da Firenze, pedoni segnalati in A11 tra Prato Est e Prato Ovest direzione Pisa. Ci sono rallentamenti anche sulla A1 all'uscita di Firenze-Sud, sul raccordo Siena-Firenze uno scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo Firenze-Impruneta e San Casciano Nord in direzione di Siena. Lavori per la tramvia Firenze ricordo le notti del 16 e del 17 di marzo, chiusura del viadotto San Donato per lavori. Il tempo previsto domani in Toscana, cielo parzialmente nuvoloso al primo mattino con tendenza a rapido rasserenamento. È tutto muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze è domani.